Io come vede elettorale così, ovviamente non l'ho visti così pieni, quindi complimenti innanzitutto a voi per questa presenza, per la presenza, ma qui c'è un panificato, vedo tantissimi ragazzi, vedo tantissimi ragazzi, tantissimi giovani. Questa campagna elettorale parte, è già partita, ma continua in questa sua corsa frenetica per liberare la città. Da che cosa? Dal galleggiamento. Questa città ha galleggiato per troppi anni, noi la vogliamo liberare da questa condizione e Riccardo è la soluzione, l'unica soluzione per riportare questa città a far vincere le scommesse importanti che un comune come Ragusa non può non vincere. Auguro a tutti i complimenti, le congratulazioni a tutti i candidati, vedo tantissimi candidati in Consiglio Comunale. Questa elezione è tutta sulle spalle vostra, cioè nel senso ognuno di voi che gira rappresenta un riferimento importante per questa campagna elettorale. Non dimenticate a volte di avere la capacità anche di perdere il proprio consenso personale pur di non perdere il voto per il sindaco. Cioè noi vinciamo non con un consigliere comunale di opposizione, noi vinciamo e facciamo cambiare questa città con il sindaco e quindi impegniamoci tutti per portare il sindaco nella città. Grazie, grazie a tutti i presenti, grazie intanto anche alla coalizione che mi sta sostenendo e che sta consentendo questa avventura. Oggi ritengo che mi è iniziata la campagna elettorale proprio oggi perché è successa una cosa particolare prima di venire qui. Sono passato dal mio studio e le persone a me più care, le più vicine, i miei collaboratori, i miei colleghi, mia moglie, erano emozionati. E questa è stata per me la cosa più bella che poteva accadere perché se nella politica non riportiamo emozione, non riportiamo passione, non riportiamo entusiasmo, noi allonteremo sempre di più le persone della politica. La politica è una cosa bellissima. Tramite la politica noi possiamo cambiare il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, il futuro dei nostri posti e quindi la politica deve essere questo. L'obiettivo mio non è vincere o perdere le elezioni, l'obiettivo è fare in modo che un giorno prima del voto la gente possa appassionarsi a questa campagna elettorale, possa appassionarsi alla nostra città, possa appassionarsi al futuro della nostra città. Un elemento che sta caratterizzando questa campagna elettorale purtroppo è stato fino a ieri l'indifferenza. Noi abbiamo avuto del passato sindaci.